Buongiorno, buon 31 dicembre, benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Telestense. Parleremo ovviamente di Capodanno, cosa si potrà fare oggi, soprattutto in centro, sarà un centro blindato, piazze chiuse per permettere anche l'incendio del castello che ricordiamo sarà trasmesso su Telestense, però ci sarà uno spettacolo sempre sulla TV di Ferrara a partire dalle 21 oggi, ma ne parleremo a breve. Dobbiamo parlare anche di SPAL che ieri purtroppo ha perso per 3 a 2 contro il Brescia nell'ultima partita di questo 2020, ma partiamo parlando di emergenza coronavirus perché sono arrivati ieri all'ospedale di Icona le seconde forniture di vaccini anti-covid, vaccini Pfizer, BioNTech, ad occuparsi del corretto stivaggio dei flaconi. È stata la farmacia ospedaliera, quindi la fase 1 della campagna di vaccinazione di massa anti-covid rivolta agli operatori delle aziende sanitarie ferraresi procede dopo il Vaccine Day del 27 dicembre scorso. Si è ricominciato questa mattina all'ospedale del Delta e a Cona con la fase 1. Da ieri mattina gli operatori dei CUP provinciali hanno iniziato a programmare le sedute di vaccinazione, contattando direttamente gli operatori sanitari per fissare gli appuntamenti per la prima seduta di oggi. Saranno 91 gli operatori vaccinati tra azienda USL e ospedali, poi dal 4 gennaio le sedute vaccinali si svolgeranno dal lunedì al sabato sia a Delta che a Cona. Inoltre dal 7 gennaio partiranno i primi team vaccinali itineranti che saranno costituiti da 4 equip composte da un medico e due infermieri per arrivare ad effettuare tra le 1.500 e le 2.000 vaccinazioni settimanali. Ricordiamo che il ciclo vaccinale consiste in due dosi da effettuare a circa 21 giorni di distanza tra loro e per poter effettuare la vaccinazione, ricordano dall'azienda USL, è necessario non avere una malattia acuta febbrile in atto e non essere in gravidanza. Quindi è iniziata oggi la vaccinazione di massa e proseguirà nei prossimi giorni. Torneremo a parlare di questo ma è tutto pronto a Ferrara per il Capodanno che purtroppo non sarà possibile festeggiare insieme in piazza come gli altri anni ma quest'anno su Telestense ci sarà uno spettacolo che avrà come momento culmine l'incendio del castello allo scoccare della mezzanotte. Sentiamo. Anche quest'anno il tradizionale incendio del castello Estense avrà luogo. Nella notte a cavallo tra il 31 dicembre e l'1 gennaio 2021 non sarà possibile assistere in presenza circondando il fossato dell'antica fortezza Estense ma le spettacolari immagini dei fuochi e le luci multicolori insieme alle coinvolgenti musiche scelte per l'occasione percorreranno il mondo attraverso le dirette streaming sulla rete internet e quelle televisive di canali e network privati. Abbiamo scelto di confermare uno spettacolo importante atteso e tradizionale in un anno particolare difficile ha detto il sindaco di Ferrara Lanfabri. L'incendio del castello è organizzato dal 2015 da Made i Venti e Delphi International. Lo spettacolo pirotecnico è affidato a parente Fireworks per la regia di Giuliano Sardella. Quest'anno il tema al quale si ispira per la colonna sonora è un omaggio al grande cinema italiano che si aprirà con un doveroso tributo per ricordare i 100 anni dalla nascita di Federico Fellini. Lo spettacolo durerà circa 17 minuti. Telestense e Telesanterno a partire dalle ore 21 del 31 dicembre ospiterà alcuni importanti ospiti del mondo dello spettacolo, dello sport e non solo. Fino al momento clou della serata, l'incendio del castello appunto, il tradizionale spettacolo di fuochi e musica. Tanti protagonisti e ospiti VIP della città e della regione in tv, tanta musica poi con Attilio Fontana, Clizia Fornasie e la Dolce Vita. Da non dimenticare l'appuntamento con l'oroscopo di Giuliano e tanto spazio e messaggi di aguri che possono essere inviati in diretta tv via sms. Il sindaco di Ferrara, Alan Fabri, ha firmato un'ordinanza che prevede la chiusura al pubblico di vie e piazze del centro storico attorno al castello, soprattutto dalle ore 19.30 del 31 dicembre fino all'1.30 del 1 gennaio. Ricordiamo infatti che l'incendio del castello sarà ovviamente senza la presenza di pubblico e questi poi sono i giorni in città come in tutta Italia in cui si è tornati in zona rossa e nella notte del Capodanno il coprifuoco sarà in vigore dalle ore 22 fino alle ore 7 del mattino, di domani mattina 1 gennaio. Quindi nella notte di San Silvestro, come previsto dall'ultimo decreto, non si potrà uscire di casa se non per necessità urgenti. Di giorno si potranno raggiungere parenti o amici, al massimo due persone non conviventi per nucleo e come ricordiamo che il centro di Ferrara chiuderà proprio fisicamente con la nuova ordinanza alle 19.30, mentre ricordiamo il coprifuoco inizia alle ore 22.00. E quest'anno quindi su Telestense ci sarà lo spettacolo del Capodanno, ma domani non mancherà l'appuntamento della tradizione di inizio anno con la grande musica alle ore 16.00 sulla TV di Ferrara verrà trasmesso il concerto dell'orchestra Plettro Gino Neri. Sentiamo. Il concerto di Capodanno da oltre 40 anni rappresenta per l'orchestra Plettro Gino Neri un momento di gioia e condivisione con tutti i ferraresi che attendono il primo dell'anno per condividere al Teatro Comunale di Ferrara i tradizionali auguri di buon anno. La pandemia nel corso del 2020 però ha bloccato moltissime attività culturali e musicali in presenza praticamente per tutto il corso dell'anno. Ma domenica 20 dicembre è stato registrato a porte chiuse al Comunale Claudio Abado di Ferrara il tradizionale concerto di Capodanno che verrà trasmesso da Telestense l'1 gennaio 2021 alle ore 16.00. Successivamente alla trasmissione televisiva il concerto di Capodanno sarà visibile sul canale YouTube dell'orchestra Plettro La Gino Neri, costituita da circa 50 elementi, è strutturata in modo del tutto analogo alle tradizionali orchestre sinfoniche pur essendo composta solo da strumenti a plettro e a pizzico. Il messaggio che vogliamo dare quest'anno, dicono dall'associazione, va oltre i confini di Ferrara e vorremmo che arrivasse in tutta Italia a tutte le orchestre mandonilistiche e a tutte le associazioni del mondo della musica e della cultura. Abbiamo capito come la rinascita è nelle nostre corde, dicono i musicisti, secondo cui niente può fermare la musica, nemmeno questo periodo di grande difficoltà. Il programma di quest'anno guiderà il pubblico in un percorso musicale tipicamente incentrato su musica a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento. In chiusura, da sottolineare il messaggio di speranza e di augurio e di ripresa per tutti gli italiani, sarà proposto l'ino di Mameli. Sport adesso Spal sconfitta Amara nell'ultima partita di Serie B del 2020 per i biancoazzurri che sono stati battuti allo Stadio Mazza per 3-2 dal Brescia. Allora per noi c'era Alessandro Sovrani che ci racconta come è andata la partita. E' finito nelle peggiori dei modi l'anno per la Spal, una sconfitta 3-2 in casa con il Brescia nonostante la formazione ferrarese fosse partita con il piglio giusto. Alcune incursioni di Dickman sulla destra in apertura, prima una pallagolo offerta a Sala malamente sprecata, poi il cross per il colpo di testa ed il puntuale inserimento di Valotti. Sembrava che tutte le cose si fossero messe nel migliore dei modi per la formazione di Pasquale Marino, anche perché la squadra ferrarese appariva in grado di gestire bene le possesso palla grazie ai piedi buoni del centrocampo. Oggi erano stati schierati contemporaneamente Murgia e Salvatore Sporito anche se mancava un po' di verticalizzazione al gioco dei biancoazzurri. Non c'era adeguato sostegno sulla sinistra dove operava Sala e con il passare dei minuti calava anche la puntualità negli inserimenti di Dickman. Poi Paloschi isolato sul fronte offensivo, non riusciva anche nelle rare circostanze in cui poteva disporre di qualche pallone giocabile a dare un apporto spiccato. Insomma per lui ancora una serata negativa. A corrente alternata Castro, nulla da eccepire invece su Valotti, autore dei due gol della formazione ferrarese. Non c'era reazione da parte degli ospiti se non negli ultimi 10-15 minuti ma in realtà non riusciva il Brescia a creare i presupposti per impensierire Tiam. Tra l'altro Torregrossa, vera anima della formazione di Dionigi, era troppo isolato in avanti. Il Brescia però entrava in campo con tutt'altro piglio ad inizio ripresa dopo che la Spalcopio negli ultimi minuti in seguito di uno scontro con Torregrossa era costretta a sostituire Tomovic con Salamon. Alla lunga probabilmente questa situazione sarebbe stata pagata anche a caro prezzo dalla squadra di Marino. All'undicesimo coppio Torregrossa lavorava eccellentemente un pallone per l'inserimento di Iagello che riusciva ad infilarsi con troppa libertà nei pressi dell'area di rigore dei ferraresi presentandosi a tu per tu con Tiam che nulla poteva. Pallo al centro e immediato arrivava il gol del nuovo vantaggio. Ferrarese controllo da una ventina di metri con il sinistro di Valotti, collo pieno destro che non lasciava scampo a Ioroni. Insomma sembrava che tutto fosse fatto ma a questo punto la Spal si perdeva. Non riusciva più a costruire gioco nel settore nevelagico. Inutili anche i cambi con Dentco, Floccari, Brignola, Di Francesco forse Floccari l'unico a dare un discreto contributo e al venticinquesimo arrivava la rete del 2-1 del Brescia che nel frattempo aveva iniziato ad attingere con tanto profitto dalla panchina. Proprio uno dei nuovi entrati bisoli. Toccava un pallone in piena area, palla che andava sul braccio di Salvatore Espolito con i rigori che una volta non sarebbero stati concessi ma che oggi trovano anche una giustificazione. Sul discreto, al suo primo pallone toccato, andava Donnarumma che spiazzava Tiam. Anche a questo punto si sentiva crollare il mondo addosso non riusciva più a ritrovarsi mentre il Brescia si rendeva conto che poteva cercare di completare il sorpasso dentro anche Bjarnason e Dailly proprio i due che hanno confezionato il gol del successo. Su un'uscita scellerata, definiamola così, di Etiam che andava a cercare palla nei pressi della linea di fondocampo proprio Aie riusciva a mettere al centro di testa un pallone con la porta sguarnita dove arrivava Bjarnason che a sua volta con una deviazione aerea realizzava il gol del 3-2. Addirittura in contropiede il Brescia poteva con Aie piazzare la stoccata del definitivo colpo del KO a tempo praticamente scaduto mentre la Spal non riusciva assolutamente a reagire. Una Spal che fatica quindi a ritrovarsi tanti problemi da centrocampo in su insomma ora si dovrà necessariamente dare uno sguardo al mercato se si vorrà che questa squadra possa perlomeno garantirsi un posto in zona playoff. Sebastiano Espolito segue ormai fuori dai giochi fuori dalle scelte tecniche di Pasquale e Marino mentre Paloschi purtroppo al contrario di quanto invece ci saremmo aspettati non riesce a ritrovarsi. Però c'è anche qualche giustificazione arrivano pochi palloni dentro l'aria e si sa che Paloschi è un giocatore che va cercato proprio negli ultimi metri. A Giorgio Zamone è alla società il compito di riflettere in questo periodo anche se prima ci sarà da affrontare lunedì prossimo la trasferta di Frosinone. Poi dal giorno successivo apertura del mercato e diciamoci la verità qualcosa a questo punto per lo meno per disputare una stagione tranquilla pare indispensabile. Piccolo appendice, mentre le squadre rientravano degli spogliatoi si è acceso un parapiglia Pasquale e Marino poi ha precisato che il tutto era dovuto al fatto che Dionigi, tecnico del Brescia è andato ad esultare con troppo calore diciamo così, avventandosi quasi nei confronti della panchina bianco-azzurra. Insomma, situazioni che lasciano sempre per Pesce ma che nel calcio ci stanno. Intanto auguriamoci tutti buona fine e buon principio ma soprattutto con la speranza che sia un 2021 non solo sportivamente parlando non solo spallinamente parlando migliore di quanto non sia stato questo disgraziato 2020. E la SPAL è protagonista anche dell'oroscopo di Julienne un tradizionale appuntamento televisivo con le previsioni dei segni zodiacali anche del prossimo anno che ormai è alle porte. Allora sentiamo cosa prevede Julienne per la squadra di Ferrara, per la SPAL, per il 2021. La nostra squadra è in questo momento in una fase di alta allenanza. Dal punto di vista del nuovo anno fino alla fine del girone avremo delle soddisfazioni come esito. Però al presente cioè dai primi mesi fino a maggio ci sarà una sinergia tra le nuove leve e le vecchie guardie da mettere a posto perché i giovani con troppa baldanza rischiano di commettere quelle imprudenze che il mister non cerca specialmente nelle partite in casa. Per quello che riguarda le tensioni possono nascere anche dall'uso smodato dei social di questi ultimi. Però quello che conta è il risultato e quindi si riuscirà a passare il turno. Per quello che riguarda la ripresa sarà in salita specialmente nelle trasferte. Bisognerà ritrovare la sinergia mettendo un po' di polso e un po' di autorità da parte del coach su tutta la squadra turnando i giovani con gli esperti per ristabilire energia ed esperienza e riuscire a imbastire per il campionato 2021-2022 un esito decisamente migliore del precedente. Cambiamo adesso totalmente argomento dobbiamo parlare ancora dell'emergenza coronavirus e dei numeri che sono tornati a crescere nelle ultime ore in maniera importante stiamo attendendo il bollettino quotidiano ma purtroppo i numeri tra un giorno e l'altro dell'emergenza coronavirus nel Ferrarese dopo definiamola così una tregua nel periodo natalizio sono tornati a crescere come detto ma sentiamo quali sono i numeri che sono cresciuti nove i decessi nel Ferrarese per probabili complicazioni apportate da covid comunicati dalla direzione medico ospedaliera di Ferrara e dal dipartimento di sanità pubblica dell'USL cinque donne tra gli 81 e 90 anni e quattro uomini tra 70 e 88 anni quasi tutti ferraresi più un comacchiese un codigorese e una donna di mesola sono deceduti negli ospedali estensi che ospitano persone affette da coronavirus tornano a essere tante le vittime nel ferrarese quindi dove sono cresciuti anche in maniera esponenziale i numeri legati alle persone che hanno contratto il covid nelle ultime ore 121 in nuovi casi territori estense di cui circa uno su quattro presenta sintomi da covid raddoppiato il tasso di incidenza dei nuovi positivi sul numero dei tamponi effettuati nel ferrarese nelle ultime ore e se 121 ferrarese hanno contratto il covid nello stesso lasso di tempo 78 sono guariti sempre nel ferrarese l'occupazione dei posti letto nelle parti covid rimane alta ma all'incirca stabile rispetto ai giorni scorsi rimane alto il numero dei nuovi ricoveri a Kona 14 persone col covid sono entrate al Sant'Anna mentre solo 4 sono state dimesse anche in Emilia Romagna rimane importante il numero dei nuovi decessi collegati alle complicazioni dovute al coronavirus 69 gli emiliano-romagnoli sono deceduti in Regione e i numeri in Emilia Romagna crescono anche per quel che riguarda la percentuale dei nuovi positivi sul numero dei tamponi effettuati da martedì il tasso è del 7,8% dopo un calo costante dei giorni scorsi su oltre 18.000 tamponi effettuati in Regione sono quasi 1.500 nuovi positivi salgono i guariti e diminuiscono i casi attivi cambiamo totalmente argomento andiamo in città in centro a Ferrara dove è in atto il progetto Fontane ci sono delle importanti novità dalla eminente messa in funzione della Fontana di Piazza Repubblica dopo anni all'attivazione già avvenuta dell'impianto di Piazza Bruno Buozzi a Ponte Lago Scuro dalla manutenzione della storica Fontana monumentale all'acquedotto a quello di Parco Massari che la proteggerà dalle alghe nel periodo estivo abbiamo realizzato in queste settimane e realizzeremo nei prossimi giorni complessivamente la riattivazione la riqualificazione di quattro fontane storiche annuncia l'assessore lavori pubblici del comune di Ferrara Andrea Maggi l'intervento più corposo è sicuramente quello di Piazza Repubblica dove sono in corso lavori di riqualificazione complessiva dell'importo di 150.000 euro qui la fontana sarà riattivata e sarà il cuore dell'intervento generale dopo diversi anni di mancato funzionamento che avevano portato a trasformarla addirittura in una iuola a tal fine è stato smantellato il vecchio impianto datato ed è in corso di realizzazione un nuovo sistema idraulico ed elettrico in questi giorni la vasca si presenta coperta da un telo protettivo in attesa della messa in funzione prevista a giorni le fontane sono parte integrante del patrimonio cittadino e hanno in molti casi grande rilevanza storica e monumentale dice l'assessore Maggi e con questo è tutto vi do appuntamento alle prossime edizioni del telegiornale vi ricordo che questa sera dalle 21 su Telestins e anche su Telesanterno e anche in streaming ovviamente ci sarà lo spettacolo del Capodanno ferrarese con il momento clou sarà l'incendio del castello a mezzanotte grazie per l'attenzione e buona giornata a mezzanotte 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 Grazie.